Musica Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Brolalla ragazzi E direi che possiamo iniziare ovviamente faremo partite a caso E diamo il via a questa serie di scontri assurda senza senso e soprattutto senza senso Ok ragazzi siamo contro un altro Orion però blu Ember e un Lucian ragazzi Si spera bene si spera bene perché si sa tanto che io perdo E via Allora rimaniamo fermi Non è servito a nulla rimanere fermi Non sono geniale come pensavo E vabbè aspetto qua tanto Levate Ho preso due persone Mamma mia per proteggere la spada luminosa Che stava lì che ho fatto BAM Ho sbagliato BAM Mamma come l'ho preso raga L'ho ripreso Sii mamma che violenza Quanto sono stato Sta laggando Sta laggando L'ho arrato Male quello Ho arrato anche quest'altro ma secondo me C'è un po' di lag Non è laggare la realtà E la realtà sto veramente arando gente In maniere belle Mamma mia sono andato di pura violenza contro quella Ok ok adesso sono a rischio Ma a grande rischio Rischio estinzione Rischio serio di estinzione Ahia 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 Morto 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 male Morto male Però se facessi tipo così Che ho fatto Che ho fatto Dato un pugno ed è morto il mondo Ma raga sta partita sta andando bene Non sto facendo schifo Certo, è no sense come avevo previsto Però Cacchio, quello era mio Quello lo dovevo uccidere io E si è disconnesso un altro Siamo praticamente in due a essere Grave adesso Vigiorion Go Cioè siamo solo noi Player adesso, tutti gli altri sono bot Mamma Eh, uno scontro all'ultimo sangue Che è il miglior Orion Ovviamente lo sono io Non si può discutere A riguardo Aia, aia, aia Cittardo No Tieni, beccati questo Aia, aia, aia Mi ha arato un pochino però Però non è andata male Dai, non troppo male Eh no, eh, no Accetta il tuo destino Orion Blue Tu morirai per mano mia Anzi, devi morire per mano mia Non morirai Cioè, oddio Entrambi Determinano imminenza Però Quella non l'avevo vista bene Aia, aia 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 Oh Maledetto Bam Bam Ti uccido Male Eh, niente ragazzi Ora si disconnette pure lui E siamo allo contro il bot Oh Quello si stava facendo Pericoloso Eh no, eh Non te la lascerò Prendere con i bot I bot sono miei E mi sa che saranno i bot Un po' Uccidemi Ok Basta usare la La Cacchio Quello si che si chiama One Punch Man Questa era One Spear Man Però raga Mi dispiace E' finita Hai perso male Bam No 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 Va bene Raga E' finita E' finito Ho vinto 17 a 10 A meno 3 a meno 6 Ho fatto paura Ho fatto paura Ma solo perché Tutti quanti si sono disconnessi Perché se tutti si sono disconnessi Probabilmente perché io facevo paura Cioè Allora raga Siamo contro un altro Orion Il lupo Che non mi ricordo mai Come si chiama Ma è uscito da poco Quindi Non posso Sperare lontanamente Di ricordarmi il suo nome E poi siamo anche contro Scarlet Che oggi non è Scarlet Cioè Non è Cremisi Il colore Che significa Scarlet Ok Basta le battute penose Oh Cacchio Oh Oh Il lupo è già morto Mannaggia Scarlet Sta facendo Un pochino Faura E invece È Un po' falso Oh Ma che palle Quel lupo Mi ha già rubato Delle kill Ma no no Li ho presi tutti e due No 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 Mi sta laggando il mondo Mi lagga tutto il mondo No 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 Corro 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 Perché non ho speranze Aiuto Aiuto Qui non sta andando bene Crepa Crepa Scarlet Crepa Sono molto male Però raga Il lupo E l'Orion Falso Perché per me è falso Perché io sono il vero Orion Si sa che sono io Il miglior Orion Sulla faccia della terra E dai Non posso dire proprio di essere il miglior Orion Ma Stato No L'ho preso E Scarlet Si è disconnessa No 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 Che palle Quando mi lanciano la roba Adosso Devo scappare Via Perché ora mi vogliono Tutti morto Ai 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 Ora crepo mal E quindi devo scappare Vai Vai Violento Proprio Guarda Ma bastardo di un lupo Sei proprio un cane Non un lupo Sei un cane Perché me è schifo Mi fai davvero librizzo No 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 Sono in condizioni pessime Però Me ne freggo altamente Infatti Raga La consolazione è che Non sono ultimo È l'unica consolazione Dai Saltate su quella mina Perché siete miei amici E quindi fare Senti tutto Per me Invece è falso Perché la mina è scomparsa Vai Maledetta Forse Forse ragazzi È una minima speranza E invece È proprio falso Ma che palle Perché mi lanciano Tutta la roba Di questo mondo Addosso Però non sono ultimo Ancora Non sono ancora ultimo È buono questo Credo Credo sia Relativamente Buono E dai Scarlett Fatti un po' Prendere Ok Che cosa è successo Ragazzi Non ci ho capito Niente E ovviamente Adopaga troppo Non è primo Ma d'altronde Non è ultimo E niente E niente raga Direi che posso concludere Quel video Se vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Se volete tutte le informazioni Riguardo a giocare al canale A me Mettete sempre L'hashtagato Pagapoco Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al secondo canale Mettete mi piace Alla pagina facebook E seguitemi sul sito ufficiale Del canale E ci vediamo alla prossima Ciao